Musica Bentornati a tutti con una nuova parte di Donkey Kong Country Returns Da questa parte iniziamo il livello delle rovine, acquedotto rompicollo Direi di iniziare subito Non c'è ancora il mal di gola per l'altra volta, che palle Non riesco a spiegarvelo Dato che di fuori ci sono 40 gradi all'ombra Ok allora Poi vediamo dintro che il piccione viene schiacciato Ora andiamo indietro A prendere i pezzi di puzzle Infatti bisogna farlo con lì di anche il barile Poi Questo pollo va schiacciato due volte Perché prima perderà le gambe di bambù e poi cadrà Ora Questi li porteranno qua A prendere la lettera Ok non c'è niente Come vedete questo livello Cioè il livello delle rovine sono molto rustici Oddio Ora Facciamo questi Poi se fiate le candele E verrò giù Questa cosa Ci si aggrappa E Cade un pezzo di puzzle Ok Allora Allora Ok Andiamo qua C'è il tempo per la piattaforma in legno Prima che Svanisca E c'è il miniglio qua Ok No la manana mafiosa Dai Ancora Non ci credo 12 10 No No Dai Sì Ce l'ho fatta Cavolo dio Ad questi minigli Sono tutti a tempo E prendo sempre favore Perché non riesco a farcela Andiamo avanti Oh Qua se volete potete fare tutto di fretta Ma Dopo tornate indietro Perché qua in mezzo c'è un pezzo di puzzle Ok Ah sì Guardate questo È troppo bello Prima di andare giù a tirare la corda Vedete il pezzo di puzzle Ecco Non avete paura perché tanto C'è Sotto c'è C'è un pavimento Quindi non cadete Ecco lo lasciamolo pure in vita Ah sì Questo pezzo è stupendo Perché Dobbiamo fare Più o meno Più di fretta Dopo che cade tutto No di 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 Morto di di Aia Io odio sti cosi Oh Dai vattene Ok Ok L'ultimo pezzo È stupendo perché è tutto in 3D Cioè Vedete anche lo sfondo là Che È tipo una giostra Oddio Se morivo adesso Ok Ah qua ci sarà un tempo Attenzione Che dopo vi schiaccia Allora se Prendete queste cose in testa E volate Vi darà un tasco di banane Qua soffiando vi darà Ah sì vi da Monete Non vi da un pezzo di puzzle Ecco Un banane Monete Voglio ucciderti Cavolo Non so se hai capito Che culo L'ho già scordito Pezzi di puzzle Oddio Poi qua Senza Pervervi No cavolo Vabbè Se li prendevate tutti Vi dava Un palloncino Anche sia un granchino Ok Guardate troppo forte Guardate Sbanchi Oddio È evico Ok Non stiamo a decidere Però non andate subito lì Rotolate E andate dall'altra parte Perché qua È un altro pezzo di puzzle Però potete andare Al barrier Ok Il primo livello è compilato Non potete tornare a registrare Anche se sembra solo Vabbè Ok Ho lei Prossimo livello Attacco Giroccato Sì Sì Da questo livello è molto facile A confronto degli altri È solo È un po' Riprende un po' Ah no 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 Non è questo Quella è un'altra cosa Allora per questo state attenti Perché bisogna romperlo E poi correre via Perché se no mi ammazza E andare a prendere il pezzo di puzzle Cioè almeno il metodo che so io È quello lì Bisogna spaccarlo E poi si può andare a prendere Perché se no Non lo so che altri metodi ci sono Qua c'è un altro pezzo di puzzle Un altro Mezzo di pezzo Allora Ah sì Qua Bisogna spostarci Porca vacca Ok Altro pezzo di puzzle Ok Qua Ok Tanto questo non muore mai A meno che non Spuotete Lo girate E poi li saltate in testa Ok Ah sì Questo è il livello dei Colibri Bello Ah ci rivellano dei colibri Oh cavo Buono Ora Parate A prendere Diciamo le gemme Adesso è un po' forte Boom E muoiono tutti Speriamo di non morire anche noi Perché Ho un cuore Ok Buono Come ho detto Ok Allora Adesso qua Sarà un passaggio Saranno dei vari passaggi Allora Non andate subito su Ma se vedete in basso C'è la crefatura E andando in quella crefatura C'è il minigioco Eh Sua solo un occhio Abbastanza allenato Per vedere I piccoli dettagli Ok Manca solo quella banana Buono Buono Ora Ok Siamo qua Soprattutto la lettera Mannaggia Cavolo E' mancata Allora Allora Andiamo a prendere Com'era prendiamo? Siciliamo No Che figo Ok Era entrato nel barile Ah Dall'inizio Che palle Uh Di poco Ok Allora Di lettere Ah ok Avevamo solo questo Va bene Tanti pezzi di puzzle Sono Sono due Cioè Ne abbiamo presi Abbiamo preso solo poi Nei pezzi di puzzle E ci rimangono Ovviamente Sono le lettere Che non rimangono Come l'esatto C del midi Vergognati Ok Cos'è che ho stivato? Ah la lettera Ok Adesso andiamo a prendere Allora il mini gioco Non c'è bisogno Che lo rifacciamo Aspettiamo il pennuto Buono La lettera Anche presa Ora facciamo Oh Cosa vuoi? C'è l'accio Allora Di qua non si va Vai lì no Muore Allora Se non sbaglio Di qua c'è Un mini gioco Esatto Ok siamo solo a 11 minuti Oh no Sto mini gioco Lo sapevo Lo sapevo Lo odio Ok Altro 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 Sicilio E il maialino c'è poi Quindi Non c'è Tanto strada da fare Per fortuna E via Non ci credo L'avevo preso L'avevo preso L'avevo preso Cattivi Siete cattivi Altro suicidio Che falle L'avevo preso Perché mi sono andato a suicidare Ho fatto una cagata Scusate Allora Adesso vediamo di farlo per bene Perché Questi mini giochi Non ne voglio più fare Anche in ventini due banane Oh Allegria E che cos'è E così Quel pezzo di puzzle Non lo dobbiamo più prendere Aia Ah si Sto pezzo Non lo ricordo Allora Ok Ora Bisogna prendere Tutti i bottoni Ok Maledetto 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 ancora Allora Qua Grappatevi Andate giù Un pezzo di puzzle Ce ne manca uno Allora Aspettate Ci manca un pezzo di puzzle E la N E la G Ok Ora Andate di qua Vendete la G La N Scusate Ok 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 Mamma mia Il maialino c'è poi No Fortuna che l'avevo appena preso Il maialino Voilà Oh cavolo Ma le decupizioni Oh avete rotta No Piccione Oh cavolo Ora Qua ci sarà Saranno delle cose da fare Bisogna salire sugli sportelli Oddio Ok Ok Sabiamo Oh Ok 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 Dai che palle Allora Poi senza dirgli è un po' un casino Ora andate di là Ok perfetto Andate di qua C'è un altro pezzo di puzzle Ok adesso il problema è di tornarsi Ok Aspettate Ok ci abbiamo tutto Ora per finire il gioco Bisogna fare una specie di minigioco Con le scimmie Allora bisogna entrare nelle bocche Però se sbagliate avete tre possibilità Vedete i barili Avete tre possibilità quindi dovete trovare bene il tempo Cavolo Allora Allora Ok uno Perfetto Ora ci manca solo da andare a prendere Ah L'ho mancato Ok ce l'abbiamo fatto in 16 minuti Può andare bene Diciamo Ok Andiamo subito a buzzare di cranky D'altanto Non me ne frega di quello che dici Tanto sei inutile Solo per comprare le chiavi Ok Andiamo a 66 litri E andiamo a 70 Tanto per far numero tondo Ok Vuoi davvero uscire? Eh sì Stavo scherzando Torno con quintali di monete banana Oppure non tornare Io torno quando c'ho voglia Anche quando ne ho zero Ok si sbloccherà livello Che è lì Nella prossima parte Faremo nove bodda di fuoco Che era quello che dicevo E quell'altro Che adesso non c'ho voglia di andare a vedere Quindi Io vi saluto Ci vediamo alla prossima parte Ciao ragazzi